Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Disegno e pittura sono espressioni congenite dell'essere umano che si perdono nella notte dei tempi. In Serdo Vastaroli, nato e cresciuto a Monterubbiano, si fanno gioia della ricordo. Serdo riprende luoghi e monumenti evocativi della propria vita e li colora con toni vivi e vivaci, fotografandoli con il cellulare e poi disegnandoli con i colori dei propri sentimenti. Così le pietre grigie, tipiche dell'aterizio marchigiano, magari un po' diroccate e ricoperte di muffa, colorate, diventano allegri, al ricordo delle esperienze vissute. A me piace disegnare da quando facevo la scuola materna. Mi piace tanto giocare con i colori che danno una particolare gioia. E per questo ho disegnato anche i monumenti sia di Monterubbiano e i paesi vicini. Serdo ama anche gli animali, quelli dell'Arca di Noè, animati dai sentimenti umani che governano la vita di ognuno di noi. E amo anche la natura. E per questo ho disegnato anche gli animali, che dopo ho avuto fuori un libro con le favole per i bambini. Dunque io ho scritto delle storie, cioè una favola per ogni disegno, di come qui dice. Il libro infatti è intitolato Appena fuori dall'Arca. Che come vedete presente l'Arca di Noè, che dice che gli animali dopo il diluvio hanno avuto dei problemi. Dopo l'hanno risolto e allora come vedete sul libro, questo qui, con queste scene che due si vedono, gli animali fanno immaginare che parlano a coppia. E allora ho pensato di scriverci delle favole. E allora queste cose che capitano anche in familiare, fra la solidarietà, l'emarginazione, anche le litigate che succedono in famiglia, eccetera, poi dopo si risolvono. E allora così ho pensato di scriverci delle favole. E anche per far giocare un po' i bambini. Infatti è chiamato un libro gioco. Qui si possono appendere le figurine anche sugli alberi di Natale. Ci si possono giocare inventando anche altre storie. Qual è la cosa che più ti piace fare e che ti dà più soddisfazione e dove riesci ad esprimerti meglio? Mi esprimo meglio disegnando, giocando con i colori. Infatti il sole, come lo vedete sui disegni, che è mezzo giallo, mezzo arancione, porta molta fortuna. E anche il cielo, che è di vari colori, che in parte è celeste, viola, rosso, blu, porta molta fortuna, molta gioia, allegria. Infatti questo è chiamato anche la magia delle pietre che raccontano. Pietre come prima erano un po' rotte. Adesso le ho fatte un po' più allegre, usandoci i colori. Grazie. Grazie.